Grazie di aver risposto così numerosi al nostro invito. Stasera per finito è una pagina importante dal punto di vista storico-culturale e per noi è un onore poter ospitare questo convegno. Vedrete che mi sarà balsa la pena. Io voglio dare subito la parola al Sindaco per i saluti istituzionali, poi alla Presidente dell'Associazione APS, Coscollo di Stadio, Rosaria di Stasi. Poi dopo entriamo nel vivo del convegno così vi raccontiamo anche il perché di questa serata. Grazie ancora e passo la parola al Sindaco per ringraziarlo per la disponibilità.